Benvenuti e bentornati sul mio canale Il Mondo di Gerry. Ebbene, se sono ancora io, ma questo video sarà particolare. Perché? Perché a di là delle playlist che vi suggerisco sempre di guardare, tra le video lezioni, le quiz commentate, scienze naturali, chimica e biologica, io che vado in giro a fare lo scemotto, oppure a creare qualche pietanza, sublime pietanza, questo video dedicheremo la maggior parte dell'attenzione al questionario che è uscito di recente, che ha scadenza mensile, stiamo parlando a novembre 2022, riguardo alle opinioni che Valditara preferisce avere sia da dirigenti scolastici, perché di fatti sono opinioni, e dai di docenti, attraverso un questionario. Questo questionario tratta appunto direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, il piano nazionale scuola digitale. Gentilissimo, la nostra direzione si accinge ad attualizzare il PNSD e per fare questo ritiene fondamentale partire dal tuo punto di vista. Pertanto, nell'ottica di una progettualità condivisa, ti invitiamo a compilare il presente questionario, il tuo contributo sarà prezioso per la costruzione a scuola del futuro, grazie. E qua ci sono tutti i dati e i diritti, verranno raccolti in modo anonimo, nel rispetto al regolamento generale dall'Unione Europea, sulla protezione dei dati, sempre ovviamente ricordando il diritto alla privacy codice in materia di protezione dei dati personali e i dati saranno trattati in forma aggregata, nessun questionario sarà riconducibile ai singoli partecipanti. Allora, anni di servizio nel ruolo. Certo che non hanno nessun anno di servizio nel ruolo, sembra, ma ecco, veramente così. Io in ruolo, se qua intende proprio come anni di servizio in ruolo, no, cioè non ho neanche un anno di servizio in ruolo, cioè ho fatto qualcosina ma non in ruolo, a quanto pare. Le giorni in cui presti servizio, si sa, io attualmente sono in Veneto, scuole in cui presti servizio, io posso, per la classica concorsa 0,50, si sa, sono abitati coloro i quali possono appunto accedere alla scuola secondaria di secondo grado per la classica concorsa 0,50. Avanti. Gli ambienti innovativi, noi ci speriamo bene anche durante una didattica dell'inclusione, certo che anche chi studia per il TFA sostegno la capacità di ribaltare i banchi, predisporre un ambiente didattico inclusivo, collaborare con il docente curricolare, certo che anche gli ambienti innovativi, anche a riguardo per l'agenda 2030, ma soprattutto anche per la formazione del piano scuola 4.0, quindi sulla digitalizzazione dei nuovi laboratori digitali e quant'altro. Per gli ambienti innovativi, per l'ambrinimento degli strumenti digitali, hanno contribuito a aumentare l'adozione di nuove soluzioni didattiche, secondo me è molto, modificare l'azione docente-alunno, se sono i ragazzi più attivi attraverso uno smart in classe, non smart working, ma in classe, magari perché attraverso un'app digitale, attraverso, ad esempio, faccio un esempio, Google Moduli, oppure un'altra app, beh, quelli sono anche molto utili, modificare le forme di collaborazione tra docenti, negli ambienti innovativi per l'apprendimento, l'esempio può essere un italiano, un matematica, oppure un scienze matematica, sì, modificare in modo significativo le esperienze, insegnamento e apprendimento, perché no? Allontaniamoci dalla didattica tradizionale, avviciniamoci più a una didattica innovativa, inclusiva. Qua dice di aggiungere all'idea, con quale frequenza utili gli strumenti digitali? Beh, io, innanzitutto, spesso, il computer, audio con arredi modulari, piattaforme per l'apprendimento, software didattici, ogni persona sa, quale è il caso suo, nel caso mio, quando ho avuto esperienza, come docente di sostegno, c'è una particolare, semplicemente, schermata interattiva, però non era presente alla BIR, cioè c'era una smart board, però in laboratori, c'erano dei laboratori sofisticati, a livello anche informato, e quindi software didattici, dipende anche dal vostro ambiente. Beh, innanzitutto, poi prosegue, quale utilizzo fai prevale, valentemente gli strumenti digitali, ai fini didattici? Beh, certo, io li utilizzo, anche attraverso una didattica, Flippid Classroom, ovvero dare al ragazzo, almeno un compito di assimilazione, da casa, così da poterli riceverlo in classe, e, e investigare, competenze, e quant'altro, in classe, cioè quindi arrivare in classe, già preparato, e attraverso ciò, uso, non solo anche i miei video, ma anche alcuni schemi, che non ho riportato nel mio canale, certo, in condizioni specifiche, progetti, eventi, attività extracurricolari, questo ben volentieri, mi piacerebbe utilizzarli, ma non, no, si lo utilizzo, nella didattica quotidiana, come si, lo utilizzo, quindi ok, nella seconda, posso aggiungere qua, youtuber, quant'altro, l'adozione di strumenti digitali, le soluzioni didattiche innovative, prodotti nei tuoi studenti, certo, migliormente, gli esiti, di apprendimento, relazionale, l'ho notato, chi non sapeva usare bene, diciamo, la nuova sofistica, anche il google moduli, posso anche dire sì, migliormente il processo di rendimento, va benissimo, qua dipende da situazione a caso, io sto cercando di fare una media, ho avuto un impatto positivo, perché mi hanno detto, piuttosto chiaro, prof Jerry si è piuttosto chiaro, ma andiamo avanti, nell'attività di insegnamento, gli studenti esercitano le competenze digitali? Sistematicamente nel mio ambito, insegnamento, disciplina, non sempre, perché io tendo anche a dare opportunità, anche di auto, come dire, didattica, certo, autodidattico, ovvero, di comprendere da solo, certi argomenti, perché questo significa anche fare scuola, non ci deve essere sempre il supporto, perché se no, il ragazzo non camminerà mai, da solo, quindi, in cerca della sua autonomia, e, e aggiungerei anche delle competenze metacognitive, e sono importanti quelle, cosa ritieni sia necessario per rendere quotidiano, l'innovazione didattica e digitale, la condivisione, sì, certo, il mentoring, coaching, anche perché, anche del docente di sostegno, il supporto, molto, perché il docente di sostegno, non è solo per il ragazzo con disabilità, ma, o con difficoltà, io preferisco usare la parola con difficoltà, perché, molto spesso, i ragazzi sono così, no, e soltanto per lui, no, non è affatto vero, e per tutti, io rispondo sempre, poi, la definizione, da parte del ministero di istruzioni, linee, guida e modelli operativi, non molto, perché qua, ci posso aprire una parentesi, per quanto riguarda la burocrazia, i decreti, i modelli operativi, a volte da legge, l'interpretarli, e quant'altro, attraverso la formazione, sull'innovazione didattica e digitale, ho acquisito competenze significative, ma non spendibili nella mia quotidiana, allora, sì, ho acquisito competenze significative, ma, durante il percorso PF24 CFU, questo, lo posso dire, ma anche attraverso, anche durante il corso universitario, certo, cosa rende efficace, la formazione sui temi, sull'innovazione didattica e digitale, beh, certo, l'impostazione metodologica didattica, e io aggiungerei anche, la trasversalità degli argomenti, di alcuni argomenti, tra le diverse materie, che a volte sono ridondanti, ma a volte, questa ridondanza è utile, perché aiuta nel legare, e in procinto, anche ad esempio, di un esame di stato, di maturità, dove il ragazzo, attraverso un brainstorming, di facile, di citura, può indurre subito, alle sue competenze, e alle sue relazioni, il fatto del mentoring e tutoring, certo, lo si può fare con il docente di sostegno, l'animatore digitale, il team per innovazione, hanno contribuito a, beh, qua, apro una parentesi, per quanto riguarda questa cosa, non tutte le scuole, magari non hanno, si parlava, si sta parlando tuttora magari, con Val di Tara, di un docente, ad esempio, il docente di informatica, che possa fare, coadjuvare un po', le competenze digitali, qua dipende anche dall'istituto, aumentare l'impiego di soluzioni, di dati innovativi, di fondi iniziative nazionali, europei di innovazione, beh, certo, che rientra un po' nel campo, del uso delle TIC, quindi delle tecnologie, anche per le comunicazioni, e per l'informatizzazione, io prenderei più, migliorare la familiarità, del docente nell'uso delle tecnologie, ma le famose TIC, per quindi, mirate al, questo è il modulo, che il ministero di istituzione, richiede, e nell'ultima domanda, chiede, se fossi tu a decidere, quale sarebbe la prima azione strategica, che proporessi, per promuovere l'innovazione didattica, potrebbe essere anche un esame, di un concorso, straordinario orario, ordinario, straordinario, una prova orale, ti chiede, ma quale sarebbe la prima azione strategica, che proporresti, per promuovere l'innovazione didattica, l'innovazione didattica, che fa riferimento, non soltanto a quella digitale, fa riferimento anche a quella inclusiva, certo, io opterei, magari, una mia considerazione, magari, di scrivermi nei commenti voi, qual è la vostra azione, farei riferimento, sicuramente, alle competenze di cittadinanza, le otto case, o se le otto competenze chiave, di cittadinanza, e fare riferimento, anche a ciò, che dice l'agenda, nel piano nazionale, scuola digitale, i suoi obiettivi, e aggiungere, anche, un goal particolare, il goal 4, dell'agenda 2030, che riguarda sempre, l'istruzione, equità, tra, 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 tra i diversi, ruoli, docenti, studenti, collaboratori scolastici, anche, grazie al tuo contributo, il questionario è terminato, se desidi, ricontrollare le risposte, clicchi indietro, per completarlo, inviarlo, clicca sul pulsante, invia, le tue risposte, sono state acquisite, grazie per la collaborazione, chissà, magari, cambierà qualcosa, o resterà così, ma comunque, a mio parere, l'andamento, rispetto, agli anni della Germini, per intenderci, verso gli anni 2008, 2011, rispetto ad oggi, un passo, un passo, se è mosso, un passo, solo un passo, se è mosso, nel mondo della scuola, se dovessimo, andare indietro, a Berlinguerra, a tutti gli altri, ministri, diciamo, i ministri, dell'istituzione, in passato, ebbene sì, nel bene, o nel male, e comunque, è il loro ruolo, stanno contribuendo, diciamo, ad avere una scuola, un po' più inclusiva, questo sia un fattore positivo, più, ecco, più mobile, io la chiamerei, proprio così, inclusiva, più mobile, non tradizionale, certo, da migliorare, sull'aspetto, questo suplus, di insegnanti, che magari a fine, fine anno, appunto, stiamo parlando di, a inizio dell'anno scolastico, quindi fin all'anno solare, e, non, sono ancora a casa, e stanno cercando di avere, un posto, almeno, dalle graduatorie di istituto, certo, è che le mad, sono, particolari, anche in quello lì, magari lo, lo chiariremo, nel prossimo video, grazie, di questa mia condivisione, che riporto, al mio canale, youtube, credo che questo video, lo inserirò, nella playlist, beh, possiamo fare, perché no, ministro di istruzione, nel merito valitare, Giuseppe 2022, 2023, come sempre, un abbraccio caloroso, dal mio mondo, regalami un sorriso, iscrivendoti al canale, grazie, siamo sempre di più, comunque, rispetto ad altre realtà, vedo che, qui io vedo, mille, tre visualizzazioni, altri vedo, quattro mille, cinquecento e passa, visualizzazioni, quindi, ho un, anche un ottimo, vostro feedback, sarebbe anche utile, raggiungere, anche le altre, realtà, ma, una, po'